Abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parashah, bellissima parashah, parashah toldot, anche che non è così così grande, però ci sta tanto, 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 tanto di parlare. Con l'aiuto di Hashem cercheremo di parlare il più possibile, di spiegare qualche concepto importante per capire meglio la parashah. La parashah nostra è una continuazione della parashah scorza, Ve ele toledot Yitzchak, e questi sono i discendenti di Yitzchak, figlio di Avraham, Avraham generò Yitzchak. Molto strano questo versetto, sì? La Torah ti sta raccontando, ti va a raccontare adesso sulla famiglia di Yitzchak, Prima di raccontare tutto, dice la Torah, sa che questo Yitzchak è il figlio di Avraham, e Avraham è quello che generò Yitzchak, il suo padre. E qui tutti i commentatori chiedono una domanda, però scusa, è ovvio che si Yitzchak è il figlio di Avraham, che Avraham ha fatto Yitzchak. Ebbè, in mezzo di chi? Dovete sapere che ci sono due tipi di figli, e ci sono due tipi di padre. C'è un padre che è un padre biologico, e c'è un padre che è un padre spirituale. E anche al contrario, c'è un figlio che è un figlio biologico. E c'è un figlio, che è un figlio non solo biologico, spiritualmente, un figlio che segue il suo padre, è un figlio che continua l'opera del suo padre. Dove abbiamo visto questi due? Yitzchak e Ishmael. E la parasha scorza ci ha scritto, e quelli sono i decidenti di Yitzchak, figlio di Agar, che fu nato da Avraham. Quindi vediamo che quando si parla di Ishmael, non viene considerato figlio di Avraham, che Avraham generò Yitzchak, no? Ishmael nasce da Agar, nel senso che biologicamente il figlio di Avraham, però nella mentalità, era Agar completamente. Come abbiamo visto che lui era anche idolato. Yitzchak, però, Yitzchak era completamente diverso. Yitzchak non solo che era figlio di Avraham, Yitzchak era Avraham in tutto il suo essere, in tutto il mondo di comportamento, in tutto il modo di pensare, in tutta la sua filosofia, era Avraham. Yitzchak, però non solo questo. Yitzchak, maestro, che la faccia di Yitzchak era cento por cento uguale a Avraham. Il Midrash racconta che quando Avraham e Yitzchak camminavano insieme in la strada, non si capiva chi è il papà e chi è il figlio. Voi mi potete dire, però scusa, se Yitzchak ha 60 anni, ci sta così tanti anni di differenza tra Avraham e Yitzchak, perché Avraham, quanti anni aveva quando è nato Yitzchak? Cento anni. Quindi diciamo che Yitzchak era adulto, venti anni. Che voglio dire? Un uomo di centoventi anni insieme con un ragazzo di venti anni non si sa chi è il padre, chi è il figlio. Yitzchak, non si sa. Sa di chi? Fino a Avraham e Yitzchak non c'era il concepto di essere anziano biologicamente. Ossia sì, uno poteva essere centoventi, centoquaranta anni e essere anziano, però il corpo, dicono le maestri, all'inizio della creazione, quando Hashem ha creato il mondo, quando ha creato l'uomo, e l'uomo fu creato per sempre, anche quando è anziano, che il suo corpo rimane giovane. Ossia, il suo corpo, non lo so quanto anni, diciamo venti, venticinque anni, la vita si blocca, gli anni vanno avanti, però biologicamente rimane il stesso. Chi è il primo anziano in la Torah? Avraham e Avraham, Avraham è il primo in la Torah che su di lui c'è scritto che lui è anziano. Perché? Per questa cosa. Eto Avraham, io vado con i miei figli nella strada e tutti non solo capiscono chi è il padre e chi è il figlio. Per favore, da oggi, quando un uomo diviene anziano, fanno vedere al mondo che è anziano, capelli bianchi, un po' così, anzianità, che così la gente capirà chi è papà e chi è figlio. I behemet, la domanda che si deve fare, perché il viso di Ishaq era uguale come Avraham? Perché era necessario fare così? Anzi, e Midas racconta che Avraham ha pregato per questa cosa. Avraham ha pregato per favore a Kadosh Baruch Hu che il figlio mio sarà biologicamente, e la sua faccia, e il suo corpo, uguale a me. E perché era così importante? Che sarà uguale fino a che la gente si sono confuso chi è chi? Lì le maestri, perché nel mondo c'erano qualchi che parlavano parolaccia, c'erano qualchi che parlavano la shonara. e hanno detto, aspetta, la moglie di Avraham sarà vera, sterile. Fino a 90 anni non ha fatto figlio. Una notte fu preso nella casa del faraone e che succede? La mese dopo l'è incinta. Nove mesi dopo questa storia, chi nasce? Nasce Ishaq. Hanno detto tutti, non tutti, tutti sapevano che Avraham era tzadì, ma sempre ci sta quelli che vogliono vedere il cattiverio. E ha detto, ah, questo Ishaq non è figlio di Avraham, è solo figlio di Sarà. E poi questo ha detto Avraham, per favore, che nessuno va a parlare male su di me, che nessuno va a pensare male su di me, fa che la faccia di Ishaq sarà uguale come me, così nessuno può chiedere domanda, nessuno può anche dire una cosa di questo genere. E qui la domanda che si può chiedere, però scusa, ma che ti importa? Tu sai un tzadik? La sai. La maggioranza della gente? La sanno. Tu mori è una tzadikà, una donna giusta? La sai. E il faraone stesso ha detto a tutti, a frente ha proclamato, io non l'ho toccato, perché non l'ho toccato, è venuto un angelo nel mezzo della notte e non mi ha fatto dormire. Non solo questo. Tutti sono divenuti sterili nella casa del farone e grazie a che Avraham ha pregato, grazie a che Avraham ha pregato, hanno potuto fare fili. Quindi tutti sapevano, sì, va bene, ci sono quali che vogliono, sempre ci sta qualcuno che pensa che ci sono teoria, è complotto, sempre ci sono quelli, che ti importa a te? Che qualcuno pensa che non è tu il padre. Che ti importa? Che ti guarda? come ti guardatele, che ti frega? Ma è una cosa che c'è l'altezza? E davvero, il tzadikim è molto importante. La Torah dice, v'item nekim mehashem o meisrael. Un uomo deve essere pulito nel fronto dell'occhi del creatore mehashem, però il uomo deve anche essere pulito al fronto dell'occhi dell'altri. è importante lo che pensano l'altri. È importante che l'altri non penseranno male di te. Perché tu, come ebreo, come figlio di Akkadosh Baruchu, come umano, hai l'obbligo di essere puro. Non solo che deve essere puro, dire le mazze, tu devi illuminare il mondo. E come tu puoi illuminare il mondo se la gente parlano male di te? E per questo dice Ebram, sì, anche se è una minoranza che parla su di me, per me questa cosa è importante. Sadiqim, c'è un halakha, un halakha che sembra strana, c'è un halakha di lashonara, che vuol dire lashonara? Quando uno parla male su qualcuno. Dice il hafez haim, quando uno parla male su qualcuno, ci sono tre gente che vengano punite. chi sono le tre gente che vengono punite quando tu parla male su qualcuno? Uno, quello che ha parlato. Due, quello che ha sentito. Terzo, quello su di lui viene parlato. Anche lui viene punito. Dice però, scusa, colpa mia. Quali parla lashonara? Di Kim? Non è colpa mia, perché lui ha parlato male su di me. È problema suo che lui ha parlato, che non era giusto. è problema di quello che ha sentito. Perché vogliono da me. È colpa mia che lui ha parlato male di me. Mia maestrisina. Ve'item ne'kiim. È un versetto che è scritto in Parashat Re, il libro di Bamidbar. Ve'item ne'kiim me'ashemum e'israel. I sarate, sarete puliti al frente degli occhi di Hashemi, al frente degli occhi del popolo. Questa cosa è importante. Si parlano male di te, voglio dire qualcosa. Hai sbagliato. qualcosa non hai fatto sufficiente. È vero. Forze, forze, non forze, probabile che lo che parlano male su di te non era esattamente come diga no. Anzi, sicuro che non l'hai fatto. Però il fatto che qualcosa che tu hai fatto ha portato alla gente a parlare male di te, dicono le maestri, vuol dire che qui una cosa non è 100% pulita. E per questo dice Abraham, Abraham, non fammi cadere in questa cosa. Per favore, fa che Israq sarà uguale come me, che così non ci saranno domande e che nessuno parlerà male di me, perché si parleranno male di me vuol dire che qualcosa forze ho sbagliato. Qualcosa non ho fatto 100% pur. E per questo dicono le maestri, belle, tutto è Tizchak ben Abraham. Tizchak era il figlio di Abraham, però Abraham ha detto Tizchak. Non c'erano domande. Si vedeva Tizchak e si capiva subito che il suo padre è Abraham e non è il faraone e non aveva il mele che nessun altro. Quanto anni ha Tizchak quando si sposa Rivka? 40 anni. Quanto anni ha suo moglie? 3 anni. Dicono le maestri, quando 30 anni Tizchak 3 anni Rivka Tizchak è aspettato 10 anni per consumare il matrimonio perché non si può consumare un matrimonio fino a che una ragazza arriva a 13 anni e passa alle 12 anni perché poiché non è ancora in la possibilità di avere rapporti. Quindi quando Rivka ha 13 anni Tizchak consuma il matrimonio. Passano un altro 10 anni dove Rivka oda pamm da 13 anni fino a 20 Tizchak non riesce far fil sì perché la sua moglie era sterile. Perché ha aspettato fino a 23? Molto semplice. Dicono le maestri poiché la sterilità solo viene approbato dopo 10 anni. Antiguamente fino a 10 anni quando uno era sposato con una donna e non ha avuto fili poteva succedere. Dopo 10 anni probabile direi maestri che lei viene considerato sterile. E per questo abbiamo detto uno ha il diritto di divorziare e non la deve fare per la porra. E per questo solo quando Rivka arriva a 23 anni che succede? e Yitzhak prega per lei maestri vedi quanto forte la preghiera Yitzhak si metteva a un angolo della casa Rivka si metteva all'altro angolo della casa e pregavano insieme fino a che Yitzhak è entrato in cinta. Quanto si può imparare da qui? Voglio dire che il fatto che Yitzhak ha aspettato 10 anni per entrare in cinta perché non hanno pregato. Se Yitzhak aveva pregato forse un anno prima o due anni prima o cinque anni prima questa cosa aveva succedere prima e questo dicono le maestri dovete sapere che tante volte uno pensa nella vita vedi noi sappiamo che tutte le cose sono decise no? A Rosh Hashanah la Scema ha giudicato ogni di noi ognuno di noi a Rosh Hashanah la Scema ha scritto quello avrà soldi così e quello avrà saluto così e quello avrà fili così e quello succederà così e tutto tutto viene deciso. Quindi uno può dire va bene che mi deve sforzare che devo pregare che devo fare basta già fu scelto della Scema ma se non hai capito la maggioranza delle cose che a Scema e Rosh Hashanah ha deciso per te che tu avrai vengono condizionato qual è la condizione che tu la chiedi è come un padre no? che ha cibo ha caramelli ha giocatole e lo può dare al figlio perché non lo dà perché il figlio non lo chiede basta che il figlio dice papà per favore mi puoi dare un caramello e il padre lo dà papà per favore mi puoi dare una ho giocato gli si lo dà gli ho mai stessa cosa perché Yitzhak aveva 60 anni perché poche ha aspettato 10 anni solo dopo 10 anni lui è entrato in stress ha detto 10 anni mai sia vada l'ena può essere che la mia moglie è sterile devo pregare qui devo pregare Hashem mi deve fare un miracolo però sì Yitzhak aveva pregato prima poi poteva succedere prima E Tzadikim Rifka entra incinta e la Torah ti racconta veitrozzetua banim be'kirba io devo dirvi trozzetua banim be'kirba molto strano quando lei passa a fronte di un un tempio un posto di preghiere va a fronte di un posto dove si fa ammondanzia benevolenza si dazze da casa aiuta le poveri il bambino che sta dentro la pancia di Rifka sembra che vuole uscire fuori però la cosa è strana quando lei passa a un posto al contrario un posto di idolatria un posto dove si fanno peccato un'altra volta questo figlio sembra vuole uscire fuori e Rifka dice che è questo che è questo figlio che vuole essere questo figlio vuole essere un uomo cattivo vuole essere un uomo giusto era molto 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 sorprendita che può essere una cosa così va bene che si fa quando non si sa che fare si va il bambino è andato al profetto è andato al Shem Shem che era accendente di Noe ha chiesto Shem dimmi qual è questa storia io vado al lato di un tempio quello vuole uscire ma che succede c'è tranquilla Rifka hai due manfili non è uno c'è uno che sta dentro la pancia tua e che sarà un grande tzaddik sarà un uomo giusto e lui sempre andrà in posti dove si prega dove si studia dove si fa benevolenza però hai un altro abito che al contrario sempre sarà vicino alla casa dell'idolatria sempre sarà vicino alla casa dell'adulterio e sempre lui sarà là gli dicano le maestri Rifka si è tranquillizzato di questa risposta è ritornato a casa e qui chiedono tutti i casi tutti i commentatori però scusa non ho capito perché sei tranquillo appena ti hanno detto uno sarà santo e l'altro sarà cattivo che c'è essere tranquillo del fatto che io so che uno sarà tranquillo e beh una delle risposte che dicono le maestre ha detto Rifka vedi se io so che ci sono due figli e ogni figlio ha il suo cammino ogni figlio ha la sua visione ogni figlio ha la sua teoria io sono tranquillo perché uno che ha un visione uno che ha un cammino puoi cambiare la sua visione puoi cambiare il suo cammino va bene adesso il profetto mi ha detto che uno sarà cattivo però io sarò la sua madre lo insegnerò però farò tutto per portarlo in una strada giusta però uno che alla mattina vuole andare al tempio e alla notte vuole fare adulterio uno così come si chiama oggi hanno un nome inventato bipolare invenzione non esiste però chiamiamolo così uno bipolare lui si sveglia oggi voglio fare questo e domani voglio fare questo e nel stesso giorno dieci volte al giorno una volta vuole andare a destra una volta a sinistra uno così non c'è che lavorare non c'è che fare e per questo quando il profetto dice tranquilla ce l'hai due anche se uno cattivo anche uno bene lei tranquillizza dice questo sono gente normale si può lavorare abbiamo dei mezzo qui c'è una domanda forte a fare come mai un bambino che sta nella pace della sua madre già vuole andare al tempio un bambino che sta nella casa della pace della sua madre che già vuole andare a fare idolatria noi sappiamo che ogni bambino nasce puro ogni bambino nasce tzadik le maestre ci insegna al contrario che quando uno nasce subito già eliezeratov che vuol dire eliezeratov l'inclinazione è bene quello che ti voglio fare è cosa bene però eliezerah quello eliezerah che ti porta alla strada cattiva dicono le maestre quello viene solo dopo più tardi quando uno arriva a tredici anni quindi come mai questo bambino già sta in la pancia questo Esav si lo chiamavano il suo nome Esav già era cattivo in la pancia non esiste e anzi il Midrash per me dice che Iacov e Esav fino a tredici anni non c'era differenzi tutti e due andavano a scuola tutti e due studiavano a Torà tutti e due arrivavano a casa con una pagela bene tutti e due sentivano lo chiedisce papà ma vediamo che la differenza tra Esav e Iacov non era del nascimento solo dopo quando arrivano a tredici anni Esav ha preso una strada sinistra sbagliata invece Iacov è andato a destra è andato è la strada giusta quindi come mai Demet qui c'è una cosa molto profonda i maestri dicono che ogni uomo è destinato a avere un modo di comportamento ogni uomo è destinato per confrontare qualche cosa nella sua vita quale sarà la reazione di questo destino questo dipende di te e cercherò a spiegare meglio dare un esempio su Esav Esav dico le maestri forza per forza sarà collegato alle case dell'idolatria la domanda quale sarà il suo collegamento lui sarà quello che va a distruggere le case dell'idolatria o sarà quello che seguirà quelli che sono nella casa di idolatria perché bene se noi vediamo bene Esav aveva una grande forza anzi noi sappiamo che l'idolatro numero uno in questa epoca era il re Nimrod non voglio allungare sulla storia di Nimrod perché già abbiamo parlato un po' nelle parashot scorse però Nimrod era il re che lui ha proclamato suo stesso essere divino lui diciamo era l'antitesi di Avram come che Avram sempre diceva alla gente ci sta un creatore e Nimrod faceva il contrario adesso chi ha ucciso questo Nimrod Esav Esav nella storia dopo non importa che non l'ha fatto perché voleva distruggere l'idolatria non importa dopo forse se abbiamo il tempo spiegheremo perché ha ucciso Nimrod però comunque ha ucciso Nimrod vediamo di qui che Esav ha una forza che è una forza distruttiva anzi lui è il solo che ha poduto a uccidere l'idolato numero uno e per questo dicono i maestri il destino di Esav già della pace della sua madre era confrontare queste case di idolatria la domanda però era come sarà la reazione per questo il profeto che lui sa con profezia che già sa che succederà perché Hashem lo dice lui potrebbe dire in profezia vede questa attrazione che lui ha attraverso la casa di idolatria lui non riuscirà a farlo al bene al contrario lui farà cattivo andrà nella strada sbagliata seguirà l'idolatria e le maestri diranno che Esav la sua forza contro l'idolatria non era la sua potenzialità di Esav una potenzialità molto alta non solo distruttiva con il mano e le maestri lui anche sapeva ingannare quando c'era un uomo che era un uomo cattivo lui con la sua bocca sapeva come fare uscire da lui la sua cattiveria e le maestri e quando uno diceva una bugia o qualcuno diceva qualcosa così si chiamava Esav perché Esav sapeva parlare con l'uomo e mentre lui parla lui sapeva come fare uscire la verità quindi vediamo che Esav dentro di sé ha una forza alta e un parte di questa forza e dicono a me il tzai befi Esav era un cacciatore nella sua bocca e behemet non voglio che behemet debba capire come arrivare alla fine senza dire il fine all'inizio per questo è una delle ragioni che behemet i tzakamaba Esav così tanto o che Esav aveva con la sua bocca questa forza e behemet dicono le maestri e questa è la storia perché il profetto ha detto però c'è una cosa ancora più profonda dire le maestri che dopo che il profetto ha detto che lei ha due bambini non aveva bisogno di avere il profetto e Sara già sapeva che aveva due bambini lei ha capito non è il stesso bambino se uno vuole andare a destra o a sinistra non è poi sono sicuro che sono due però lei viene al profetto e lo dice scusa se uno deve essere tzaddik e uno deve essere cattivo perché deve non essere gemeli perché non possa essere come il mio suocero è il mio suocero è il mio suocero Avraham non aveva due figli il figlio il figlio il figlio non è nato della mia suocera di chi è nato di Agar n'acron di Agar ha fatto Ishmael non era la mia suocera Sara che ha fatto Ishmael invece che sarà ha fatto il uomo o figlio perché io non posso fare la stessa cosa perché deve riferire al profetto perché non può essere io la stessa cosa perché devo io per forza essere quello che partorisce questi due facciamo che Yitzchak perché Asher poteva fare che Yitzchak prende un altro io era sterile per dieci anni come che sarà era sterile ha detto prende Agar anche io perché Hashem non ha fatto così perché ha fatto che nashera tutti due qui c'addiqin dice la risa una cosa incredibile le profeti hanno detto all'or tu non hai capito non c'è paragone tra Ishmael e il sabo sapi che di Ishmael non uscirà nessun c'addiq di Ishmael non ci sarà uno che si va voler convertir all'ebraïsmo di Ishmael non ci sarà uno che va a illuminare il mondo dicono i maestri lui era cento por cento non c'era buono che poteva uscire da lui e per questo per forza non poteva essere il figlio di Sarà perché invece Issa tutte le conversioni grandi tutte le genti che sono convertite di chi sono venute sono venute di Issa sa di chi chi ha tradotto la Torah Onculus Onculus è un convertito c'erano però che lui è creativo però ha dentro di sé e questo possiamo forse riferire allo che abbiamo detto è la sua bocca la bocca la Torah orale sta dentro di lui e per questo per forza e non può essere come Agar non può essere come Ishmael e beh le maestze dicono che è così se tu vedi un Ishmaelito che si converte per forza uno dei suoi bisnonno si è sposato con uno di Issa non è cento por cento Ishmaelito perché non esiste Arisa non c'è non c'è Ishmaelito al cento por cento che si converte si è convertito è venuto di Issa e fino ad oggi lo vediamo sempre le conversioni dove viene di Issa perché Issa dentro di sé c'è anche una chiedusha e in realtà se vogliamo approfondire dopo possiamo anche capire perché Issa vuole dare l'abraha a Issa o perché Issa vede dentro di Issa questo potenziale Issa capisce questo potenziale anzi il sogno di Issa era fare con Issa fare con Yaakov Issa lo che ha fatto zvulun di Issa zvulun era quello che era l'uomo materiale che andava a lavorare e aiutava sul fratello Issa a studiare la Torah Ischak perché voleva dare la bendizione che era una bendizione materiale va iten lecha elokì mita la shamai ma si ti darà della curjada della terra o mi schmaneare se la tua la terra sarà prolifico eccetera ricchezza eccetera eccetera perché perché lui ha visto in Issa questo ha detto lui può essere e per questo vediamo che la storia di Issa non è una storia semplice i behmet se andiamo nella fine della storia adesso andiamo del delfino all'inizio vediamo che quando Issa viene ucciso la sua testa viene distaccata del suo corpo e dove è seppellito la testa di Issa nella grotta della Mahpela quindi chi è seppellito nella grotta della Mahpela abbiamo parlato la settimana scorsa Adam Echava Avraham Isara Yitzchak E Rifka Iacob Ilea è la testa di Issa e dove sta la testa di Issa è la testa di Issa arrotolata fino al braccio di Issa perché è il braccio di Issa perché tu Issa è quello che hai riconosciuto cioè il primo che hai riconosciuto che è la testa è molto interessante perché è la testa di Issa perché non tutto il corpo è molto semplice perché la testa lei simbola tutto che c'è a fare con l'estudio con il spirituale invece il corpo è materiale la materialità di Issa non c'è modo di santificare anche chi Issa forse nel suo cuore sempre lo ha voluto però nel fine non è riuscito chi è questa cosa che hanno potuto diciamo santificare lo che è venuto a santificare è esattamente la sua spiritualità e per questo solo il suo testa è nel braccio di Issa andiamo avanti siamo solo al terzo versetto della parasha andiamo avanti Issa nasce dicono le maestri e quando lui nasce questi due ragazzi abbiamo detto fino a 13 anni non c'era differenza tu vedevi Issa vedevi Iacov tutti i due ragazzi buoni andavano a scuola con il zaino con il libretto studiare la Isshiva di Shenve dove si studiava Torah però dopo inizia la differenza il primo incontro dove diamo la differenza grande è quando Iacov e Issa arrivano a 15 anni quando Iacov a 15 anni succede un evento molto speciale che succede muore il nonno Avraham Avimu muore quando Iacov arriva a 15 anni e dice le maestri che Issa ritorna a casa stanco di tutto che ha fatto tutto il giorno e vede il suo fratello Iacov che sta cucinando una suppa di lenticchie perché un'esida da sci perché una suppa di lenticchie diciamo le maestri pochiere la suppa di lenticchie è una cosa che si mangia quando c'è lutto come che c'è l'ausanza a mangiare anche la uova quando c'è lutto perché anche la lenticchia e anche la uova è tonda per dire che questo mondo è tondo si nasce e si muore si nasce e si muore e ci sono anche le incarnazioni quindi così la vita è questo è una delle cose che c'è l'ausanza di mangiare al di là dell'uomo di mangiare le lenticchie Issa ritorna a casa e lui è stanco molto interessante che quando c'è scritto che Issa è stanco dire le maestri di che è stanco che ha fatto Issa da 15 anni Issa sapete era un uomo forte a dire maestri quando Issa è nato perché viene chiamato Issa Issa viene le parole assui lui è nato completo già con le denti già con le unghie già con le capelli Issa era un uomo fisicamente molto forte e anche 15 anni noi sappiamo ragazzi forti di 15 anni non si stanca così veloce che succede che Issa era così stanco il benedino e le maestri nel stesso giorno lui ha fatto cinque peccati ha fatto idolatria ha fatto adulterio ha ammazzato chi ha ammazzato ha ammazzato il re Limod chi era il re Limod il re Limod abbiamo detto quello che è numero uno in idolatria molto interessante se vediamo bene che anche Avraham e anche Limod morono nel stesso giorno perché Avraham e Limod debbano morire nel stesso giorno perché sempre nella vita c'è una bilancia fino a che c'è uno puro come Avraham quello che proclama Beshem Hashem che va nel nome di Hashem Hashem c'è anche l'antitesa sua che l'antitesa sua è un imod che fa al contrario però il giorno che Avraham mora basta deve essere una bilancia non possiamo lasciare un mondo dove non c'è un Avraham però mai sia c'è un Imod e poi questo un Imod viene ucciso nel stesso giorno quindi ha fatto idolatria ha fatto adulteria e ha fatto cinque peccati in questo giorno mi è ritornato stanco e sono un po' pensato però scusa perché è ritornato stanco e le maestri stanchezza una cosa molto interessante stanchezza dire le maestri la stanchezza vera non è un stanchezza materiale è una stanchezza spirituale dovete sapere quando passa la giornata e uno arriva di sera di notte a casa e lui è stanco dopo la mattina quando lui si dorme dopo di dormire lui si sente che lui è a forza Baruch Hashem e dire le maestri che anche qui c'è una bilancia quando tu arrivi di notte a casa non è solo una stanchezza della materia e anche una stanchezza dell'anima e l'anima dopo che tutto il giorno mai sia uno ha sbagliato e ha fatto le cose non giusto e mai sia ha fatto qualche cosa che non deve fare che fai? Contami mai l'anima tu mangia senza fare la benedizione contami l'anima tu mangia una cosa che non deve mangiare tu vedi una cosa che non deve vedere tu parla una cosa che non deve parlare quanto veloce possiamo fare cose che non dobbiamo fare e così quando uno arriva a casa c'è l'anima è stanca perché è stanca perché tutto questo pesa su di me e beh quando uno dorme non solo il corpo dorme anche l'anima dorme ma dove va l'anima quando uno dorme? Va al cielo e quando va al cielo che fa là? Hashem prende l'anima e dice dimmi raccontami un po' lo che hai fatto oggi e l'anima inizia a scrivere ho fatto così 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 cosa buono tac cosa male così tac e firma e questa cosa viene guardata nel cielo così dopo 120 anni ti fanno vedere tutti le cartelle che tu hai firmato con tutte le cose che tu hai proclamato che tu hai dichiarato che hai fatto e subito che tu scrivi che fa Hashem Hashem ti mette la tua anima in una lavatrice o per una metafora ovvio che non c'è una lavatrice e ti inizia a pulire di tutto il cattiverio che hai fatto tutte le contaminizie tutti gli sbagli che hai fatto nella giornata perché pochè la tua anima se no non la va e per questo dire ma sì quando Esav è venuto stanco questo giorno non era stanchezza solo di materialità era stanchezza di spiritualità uno può vedere questo a Kipur quando uno sta a Kipur a Tempio tutto il giorno pregando anzi non sta anche mangiando anche digiuno e anche e anche e anche tutto il giorno però tu vedi che quando uno arriva arriva e lui prega e lui a forza mi sembra mi sembra che uno uno viva e tu sai che prima che esce Kipur quando esce Kipur prima che esce Kipur c'è l'ezza ma quando esce Kipur tu sai che la verità è che anche non ho così fame mangio perché capisco che devo mangiare però la verità possa ancora andare qualche ora perché Kipur c'è solo stacchezza della materia non c'è stacchezza dell'anima perché stai tutto il giorno al tempio stai tutto il giorno pregando la tua anima non è forse hai pensato pensiero un po' così non lo so però comunque non è come un giorno normale e poi questa bevezza di Kipur se uno vuole sentire sveglio però sveglio vero illuminato attraverso azione buona quando uno fa una mitzvah grande no? una vedi si sente bene perché perché la sua anima ha avuto una ricarica e questo lui è la maestra e salve venuto questo giorno e è ritornato stanco sì stanco della materia però anche stanco del peccato e lui vede la zuppa di suo fratello delle lenticchie e dice dammi di questo rosso rosso così e Sam lo chiama sì invece di chiamarlo la zuppa di lenticchie non lo so chiama il rosso rosso dice Jacoba lui aspetta che mi dà io ho cucinato questo che mi dà dammi qualcosa ti vendo dammi qualcosa dammi la tua primogenità tu sei primogenito sei nato prima dammi la tua primogenità dice Saf tu vuoi primogenità ma vai a che vale questa primogenità vedi il nostro grande nonno avrà ma vino uno poteva pensare che avrà ma vino lui mai morirà chi è più sa di il nostro nonno avrà se lui è morto vediamo che anche quando uno fa mitzvot anche uno fa le cose buone e nel fino si muore tutti quindi ha detto che vuole dire mangiamo festeggiamo oggi perché chissà forse domani moriamo abbiamo visto il nostro grande nonno con tutta la sua bontà anche lui è umano come tutti noi prende la mia primogenità non ha nessun valore noi sappiamo che la primogenità è una cosa importante antiguamente il diritto di essere sacerdote il diritto sacerdotiale dentro la famiglia è il diritto del primogenito il primogenito ha una forza spirituale una carica spirituale molto forte e sa così la mente così perché per lui non c'è nessun valore in questa cosa spiritualità e perché è molto semplice perché sa di una cosa molto interessante come viene chiamato il popolo di Esam non viene chiamato Esavim Ishmael il popolo di Ishmael viene chiamato Ishmaeliti però Esam non viene chiamato Esavim Esauvin come viene chiamato Edom che vuol dire Edom Edom vuol dire il rosso perché Esam viene chiamato il rosso perché quando ha visto la zuppa ha detto dammi di questo rosso però scusa questa è una ragione per cambiare il nome di un popolo intero questo popolo intero viene chiamato rosso perché un giorno è tornato a casa ha visto una zuppa rossa e ha detto rosso il maestro questo punto possiamo dire è esattamente il nucleo di Esav quando uno vede una cosa e la descrive per il suo colore vuol dire che quando lui vede una cosa vede solo l'esterno della storia ogni uno di noi si andrà non lo so a un ristorante non va a dire dammi di questo rosso non questa zuppa zuppa di carota dammi queste dentiche dammi questa cosa per bene no il maestro Esav mai ha visto l'occhio per vedere il contenito che ci sta dentro Esav era un uomo molto superficiale l'uomo che per lui lo che era importante era la bellezza una cosa esterna ma è mai semplice tutto il giorno andava a cacciare animale e donne questa era la sua cosa come cacciava le donne da lontano guardava con l'occhio quella bella quella no invece noi abbiamo visto la parasha scorza abbiamo detto una settimana voglio ripetere non ha anche saputo che sua moglie era bella fino a che è andato all'Egitto adesso mi sono reso conto che sei bello però Esav è più che il stesso al contrario lui vede il rosso sa di chi dobbiamo anche essere attenti di questo noi viviamo in Italia in Italia sono accendenti delle domiti si è tutto bello palazzi belli tutto la moda non so Milano tutti questi là sa di chi tutto questo è solo rosso noi non possiamo essere quelli che cercano il rosso sì e qui c'è Leonardo da Vinci e qui il pintura di qui e la cappella qui e Badalè non vuole parlare di tutto questo però tutto questo sa di chi che valore ha è un valore esterno è vero è rosso il rosso ha un colore bello non diciamo di no però è solo una cosa esterna e per questo Esav viene chiamato Esav e qui devo saltare un po' perché oh già vedi Baruch Hashem stiamo parlando tanto devo saltare un po' per arrivare allo che voglio arrivare le figlie crescano e Israq diviene anziano dice la Torah e quando Israq diviene vecchio sì che succede lui non riesce più a vedere quindi Israq diviene vecchio dice la maestra inizia essere cieco non vede e ha detto al suo figlio Esav per favore Esav fammi un favore io sto anziano non so quando morirò per favore porta per me due agnelli fa per me un sacrificio e così porta per me due agnelli un sacrificio due agnelli cucinale bene così io ti posso benedire e beh molto interessante perché Israq parla della morte che succede qui Israq ha 123 anni noi sappiamo che Israq ha vissuto fino a 180 anni Israq era il più anziano di tutti le patriarchi quindi perché quando lui arriva a 123 anni lui dice vedi io sono anziano e non so qual è il giorno della mia morte mentre i maestri dicono che un uomo quando lui arriva vicino alla età che i suoi genitori sono morti deve iniziare a essere attento in questi cinque anni prima che uno delle genitori è morto uno già deve iniziare a pensare perché sarà quanto anni aveva quando era morto 127 quindi cinque anni dopo 123 io sono arrivato a 123 sono avvicinato anche che avrà avvisato fino a 175 io sono avvicinato il 123 già devo iniziare a pensare come sistemare le cose non è che è morto abbiamo visto ha vissuto ancora 57 anni non è che era morto però comunque porta a me qualcosa per mangiare che così ti posso benedire anche molto interessante perché c'è bisogno di cibo per benedire se vuoi benedire il tuo figlio dallo la benedizione perché devi mangiare devi mangiare per benedire e qui è rimasta una cosa molto interessante che per benedire qualcuno più che uno è soddisfatto più che un uomo è felice più che la benedizione fa il suo effetto ha detto Itzrax io mangio e dopo che io mangio sono felice e ti voglio ringraziare perché tu hai cucinato per me mi viene benedirti ancora più del cuore e per questo ovviamente vediamo che c'è un concepto di mangiare di bere per benedire per questo anche di Shabbat l'ausanza è che si fa anche i dush si beve un po' di vino si mangia il pane c'è l'ausanza di benedire le figli Rivka sente che Itzrax vuole benedire Sav chiama Yaakov dice Yaakov io ho sentito che il tuo padre vuole benedire Sav fammi un favore ascolta in Shabbat ascolta lo che ti dico vai a prendere qualche bestia là fuori io ti cucino questo per tuo padre come lo piace e porta a tuo padre così vai a prendere la sua benedizione e dice Yaakov mamma scusa non posso fare una cosa di questo genere e se papà capirà che io non sono Esav è vero che lui è cieco però se lui capirà che io non sono Esav che succederà lui mi maldirà la domanda che si deve chiedere qui come mai una madre può chiedere del figlio fare una cosa contraria dello che ha detto il padre anzi non si può Yaakov ha studiato tanto Torah nella sua vita c'è un Allah uno deve rispettare il suo padre e il suo madre tutti i due rispettare ugualmente non c'è uno preferito più dell'altro però dice l'Allah perché c'è scritto prima tu padre dopo tu madre perché si succede si succede che il padre ti chiede qualcosa e tua madre chiede al contrario anche questo sai che non è giusto abbiamo già visto che la Gmarai insegna che è un caso dove due genitori parlano due cose diverse e dopo mai sia le figlie escono male comunque c'è la storia del ben sorello morè il figlio cattivo che mai sia ha fatto tanti peccati che viene ucciso per le sue peccate non è mai se lui viene ucciso solo in condizione che le due genitori sempre parlavano la stessa cosa o che se le due genitori non parlavano la stessa cosa uno sempre diceva a destra l'altro diceva a sinistra anche se il figlio esce cattivo non è colpa sua quindi vediamo quanto è importante che dentro casa ci sarà una voce non è giusto anche se papà pensa diverso di mamà e il fatto che mamà ha detto basta si fa così anche al contrario anche se mamà pensa diverso di papà il fatto che papà ha detto si fa così si può discutere dopo quando i bambini dormano si può entrare nella stanza parlare vedi a me mi sembra forse dobbiamo cambiare però a frente delle bambini deve essere un voce unico però comunque succede siamo umano papà dice qualcosa mamà dice qualcosa chi si deve seguire dice la la ha papà a precedenza perché pochè la Torah quando la Torah ti dice tu devi rispettare le tue genitori la Torah dice prima il papà e dopo il mamà quindi come mai Yaacov ascoltà su mamà quando l'halachà dice che se papà vuole qualcosa si deve seguire papà e non si deve seguire mamà e non solo questo dice Yaacov io ho paura il mio padre lui è un patriarco mai sia la sua benedizione vale tanto però la sua maledizione anche io ho paura che lui mi maledisce e qui dice una cosa molto interessante io lo ti dico adesso lo che ti chiedo da te una profezia che ho ricevuto del creatore non è io che ti dico prendere la benedizione è vero che anche io penso che è giusto però non è quella la ragione che ti dico ti dico farlo così perché Hashem lui in profezia mi ha detto che tu sai quello che deve prendere la benedizione del tuo padre possiamo chiedere però scusa se il creatore vuole che Jacop prendere la benedizione perché fare il giro così vai a Yitzchak lui è un profeto anche rivelati a Yitzchak dice Yitzchak per favore c'è una benedizione a Jacop chi è giusto riceve la benedizione Jacop no Hashem deve rivelare a sua moglie dire a sua moglie che si deve ingannare non voglio anche dire questa parola perché è un po' brutto dire su Jacop che è ingannato prendere da suo padre perché fare una storia così 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 strana fa la diritta noi sappiamo la Torah è vera i suoi cammini sono veri vediamo che Jacop ha molto difficoltà a seguire lo che dice il suo madre dice vedi madre mia però tu sai io quando io entro mi padre è cieco mi padre mi toccherò e io non sono pelato come Esav lui toccherà subito vedrai quello è Jacop e che lo dice il suo madre mette i vestiti di Esav questo vestiti abbiamo già detto in tante lezioni era il vestito di Nimrod di Adam Rishon un'altra lezione solo per spiegare questo andiamo avanti dice mette il vestito di Esav e che c'è scritto che chi ha messo il vestito di Esav non c'è scritto che Jacop ha messo il vestito c'è scritto che Sara ha vestito scusa Rifka il suo madre ha vestito Jacop scusa perché la madre deve vestire il figlio il figlio non sa vestire da solo un bambino di due anni no qui già abbiamo detto lui 123 facciamo la calcolazione si è nato a 63 anni un bambino di 63 anni il suo madre lo deve vestire un bambino di 63 anni non può vestire da solo dice Jacop mammi io non posso andare contro la volontà vestire un vestito per andare contro il mio padre è un peccato tu sei la mia madre non ti posso dire no se vuoi metterle tu io non la faccio e il Midrash racconta che Jacop piangeva con lacrime mentre che suo madre lo sta vestendo il vestito che lui non è capace a fare non è capace di andare contro la volontà di suo padre comunque dice Jacop è malassotto una profezia deve seguirla però faccio il minimo possibile il peccato c'è anche una cosa interessante uno può pensare se già faccio una cosa contro la volontà di mio padre che mi frega già metto il vestito veccio tutto maestre anche quando uno deve fare una cosa che è sbagliata pochia a volte non essere così veloce a decidere da solo l'Efkav aveva bisogno di una profezia per decidere andare contro lo che l'Allaha dice in questo momento non era che detesta ne ha detto anche là quando si deve mai sia trasgredire si trasgredisce al minimo diceva bene la profezia è andare prima della benizione però mettere il vestito non fa parte della mia la fai te tu la puoi fare tu non sei il figlio di mio padre io sono il figlio non la faccio faccio la storia corta perché il tempo sta volando qui quindi lui sta entrando e quando lui entra adentro la stanza viene molto veloce in franco dice scusa come mai così veloce io ti ho detto andare a cacciare animali io so prendi tempo a cacciare animale cucinarlo perché Yaakov la sua madre l'ha cucinato del cibo che già era pronto e Yaakov dice è Hashem è Hashem che mi ha aiutato il creatore che mi ha aiutato che sarà veloce e quando Yitzhak sente queste parole Hashem mi ha aiutato dice qui non va bene io conosco il mio figlio Esar lui non parla così Hashem mi ha aiutato mi ha fatto dice questa voce mi sembra la voce di Yaakov viene viene più vicino viene lo tocco e quando lo tocco e poi vede vede che è pelato come Esar dice Yitzhak accolco Yaakov e la voce è la voce di Yaakov però il corpo le mani le mani sono le mani di Esar e vediamo che Yitzhak è totalmente confuso perché è ovvio Tzadikim Yitzhak è cieco lui non vede e che succede Yitzhak sente l'odore delle vestiti di Yaakov le stesse vestiti che sua madre ha messo e quando sente le vestiti sente insieme l'odore del paradiso adesso che succede Yitzhak è confuso lui non capisce questo figlio è Yitzhak è Esar o Yaakov che si fa quando uno è confuso Yitzhak è ricchissimo poi deve chiamare uno dei suoi schiavi che vede schiavo viene dimmi un po' tu che vedi chi è qui questo è Yitzhak o Esar perché Yitzhak era totalmente confuso invece Yitzhak no invece di chiamare la schiava chiamare la sua moglie chiamare qualcuno che lo aiuta a capire chi è questo uomo che sta fronte di lui Yitzhak lo benedisce perché Yitzhak lo benedisce perché sente l'odore del paradiso che esce del vestito di Yitzhak di Yitzhak dobbiamo capire questa cosa come mai l'odore di paradiso di chi era questo vestito di suo fratello suo fratello era cattivissimo come mai questo vestito ha dato un odore di paradiso dicono le maestri lui ha sentito tutti questi anime tutti questi anime che debbono uscire di Esar tutti questi anime c'era dentro l'odore però non solo questo i maestri dicano che nel popolo ebraico a volte c'erano gente che anche loro non è stato sbagliato una di queste gente dicono le maestri è Yossef Meshita faccio la storia corta perché il tempo sta passando chi era Yossef Meshita quando le romani sono arrivato a Gerusalemme e volevano distruggere il nostro tempio prima di distruggere il tempio hanno detto vedi là ci sta tanta ricchezza tante cose fatte di cosa preziosa vogliamo prima prendere tutto che ci sta dentro e dopo la bruciamo però le romani romani non romani sapendo questa è la casa del creatore entrare là fa paura hanno cercato un ebreo e poi vogliamo facciamo andare un ebreo hanno cercato un ebreo hanno trovato un ebreo si chiamava Yossef Meshita che lui è divenuto 100% romano già era ebreo di nascimento però il suo comportamento non era niente di ebreismo non è che mangiava cacere non è che lui seguava le leggi non faceva anche shabbat lui vieni tu vieni tu sei come noi fratello nostro entra dentro la stessa cosa la prima cosa che tu vuole è per te questo sarà il tuo pagamento tutto l'altro per favore fa uscire per noi ha detto ah che fare della mia vita entra dentro e senza lavorare prendo una cosa va bene che mi frega dopo l'altra cosa la porto e lui entra e vede la menorah la candela la menorah di una maestra un pezzo di oro unico un metro ottanta e lui con tutta la sua forza piano piano uscendo con questa menorah e quando le romani vedono questo menorah hanno detto scusa però tu dove vai con questo dove vado a casa voi avete detto una cosa per me il resto vado ritorno ti puoi aiuto a fare un questa cosa si vede che non per umano come te questo solo un imperatore può avere tu la tua casa io penso solo all'altezza del tetto è un metro ottanta questo è fatto per un casa di un imperatore che ha altezza di sei metri otto metri che vuoi fare questo non è per te tu sai che darci questo a noi ritorna prende qualsiasi cosa che vuoi ho detto no non voglio voi avete detto solo questo la prima cosa mi avete promesso tu sai che vi promettiamo non solo che tu entra e prende una cosa le prossime tre anni tutte le tassi che le ebrei nella terra di Israele debbano pagare a noi romani ci diamo a te immaginate una cifra immagina che uno ti dice tu per tre anni puoi prendere tutta la tassa che la gente fa in Italia non so quanto di milgiardi di euro di tassa si paga qui all'anno tutti insieme tutto tuo per tre anni ha detto no anche per questo non la faccio ha detto vedi se non entra tu da qui o entra il porta o ti uccidiamo non c'è strada mediana ha detto bene uccidatemi e come l'hanno ucciso piano piano l'hanno tagliato un parte dopo l'altro un parte dopo l'altro e quando loro hanno tagliato il suo corpo piano piano dito un micro così lui muore piano piano lui iniziava a piangere e ha detto basta che ho fatto arrabbiare il mio creatore una volta entrando nel tempio robando una cosa non la faccio arrabbiare il mio creatore due volte e lui piange e piange piange per il fatto che lui è entrato nella casa di Hashem per robare da chi non è un uomo da robare del creatore stesso e mentre che lui piange fino a che viene tagliato lui muore e quando lui muore lui riceve l'invito di entrare nel paradiso c'è un voce del cielo Yosef Mishita questo uomo che tutta la vita ha fatto solo cattiveria nel filo si è arrepentito lui può entrare nel paradiso il Midrash dice che quando Yitzhak ha sentito l'odore del paradiso di Yaacov ha sentito l'odore di questo Yosef Mishita adesso qual è il collegamento ha detto Rivka Vedi tu sai perché Hashem non ha detto a Yitzhak che deve dare la benedizione a Yaacov tu sai perché Hashem ha detto che la benedizione deve venire così pensando che Yaacov è vestito in Esar perché se Hashem aveva detto a Yitzhak dare la benedizione a Yaacov vuol dire che solo gli ebrei che si comportano come Yaacov hanno diritto alla benedizione Yaacov era un uomo santo Yaacov era uno che studiava Torah un uomo che non aveva nessuna contaminità era tutto luce tutta illuminazione Sì Yitzhak aveva benedetto Yaacov sapendo che Yaacov con i vestiti con Yaacov questa benedizione della popola ebraica sarebbe solo per questi pochi ebrei che davvero fanno le cose al cento per cento quelli quelli le nostre grandi che però tutti gli altri non sono come Yaacov ha detto a Kadosh Bahuarif Kano Yitzhak deve dare una benedizione a qualcuno che da fuori è sanno da fuori è cattivo però dentro è puro come Yaacov ogni ebreo non importa quanto è lui lontana non imparca come lui sembra che lui è sab sembra che non è ebreo sembra che lui imparca solo il rosso è solo il superficiale non fa shabbat non fa casciuta non fa niente uno anzi come io che da fuori tutto è sab tutto rosso tutto solo è externo non c'è contenuto e maestri non importa qualsiasi ebreo va dentro nel suo nucleo è Yaacov e per questo tu devi benedire l'ebreo non solo benedire l'ebreo che è come Yaacov da dentro da fuori tu devi benedire anche un ebreo che da fuori sembra non lo so dire schifo dire la parola anche sembra non importa da dentro è puro e per questo fu girato così che questa benedizione che non sarà solo per quelli giusti che sono nati giusti e sono molto giusti sempre se sono comportati giusti no anzi noi vogliamo questa anche su quelli che da fuori sembrano cattivi perché perché dico maestri l'ebreo non importa che succede anche se ti sembra cattivo è solo una cosa da fuori da dentro abbiamo già visto anche la parasha scorsa la luce dell'anima è più potente di qualsiasi luce che esiste in questo mondo lo che disturba è la terra lo che disturba è il suo vestito lo che è vestito è il suo esterno però se ti togli tutti i vestiti che vestiti non solo vestiti vestiti è tutto lo che uno ha tutti i pensieri sbagliati tutte le cose che un uomo può seguire togli tutto questo entra dentro il nucleo la profondità del suo cuore vedrai che lui è puro e poi questo fu fatto così per dare queste benedizioni a tutto e poi questo Tzadikim ha dato una lezione al popolo ebraico per sempre all'umanità per sempre anche se tu pensi che sei allontanato anche se tu pensi che basta uno come te sai come è sa tutto il giorno vai a cacciare che vai a cacciare non lo so vai a cacciare i peccati vai a cacciare quelli vai a cacciare ma se no no non dimenticarti non sbagliarti per un attimo a dentro sai Yaakov a dentro sei puro a dentro c'è l'odore del paradiso di Yosef Mishita che all'ultimo momento ha capito e ha pianto e anche lui ha avuto diritto al paradiso che sappiamo sempre che la nostra forza è questo accol Yaakov la sua forza è la voce non è forza del mano mano è pregare studiare aiutare pregare e più che uno si avvicina più che uno sarà con Yaakov avremo la forza di uscire di questo esilio l'ultimo esilio è l'esilio di Esav l'esilio dell'esterno è l'esilio senza contenuto c'è così tanto contenuto internet media non è tutto questo è contenuto è contenuto vuoto da dentro non c'è niente perché Shashem si avvicina a Bezrat Hashem alla Torah e così potremo vedere il Mashiach presto Shabbat Shalom Shabbat Shalom Grazie Rabbi